Si attende solo il decreto, ma ormai non ci sono più dubbi sul bonus una tantum di 1.200 euro da destinare ai lavoratori agricoli. Un contributo importante per i braccianti che erano stati esclusi dai precedenti decreti di sostegno economico a causa dell'emergenza sanitaria. Sul bonus ai lavoratori agricoli c'è una nota di Dino Giardina, segretario territoriale Willa Wille di Biancavilla, nonché componente esecutivo dell'organizzazione sindacale di Catania e Messina. Nella nota che ci è giunta in redazione si legge La Willa è stata la prima organizzazione sindacale a denunciare l'ingiustizia dell'esclusione di lavoratrici e lavoratori agricoli stagionali dal decreto sostegni. La nostra mobilitazione unitaria al grido di zero sostegni, zero diritti, i nostri sit-in davanti alle prefetture, la nostra proclamazione di sciopero in presenza del segretario regionale Willa Wille Nino Marino e il segretario provinciale Wille Catania Enzameli hanno costretto il governo nazionale a confrontarsi con i segretari nazionali di Willa Fly-Fi e ad annunciare l'inserimento di misure a favore dei braccianti. È un diritto e non una concessione. Siamo certi che il governo Draghi manterrà la parola data, ma aspettiamo il nuovo decreto. Non vendiamo fumo, noi proponiamo certezze e conquiste. Appena le promesse diventeranno legge, conclude la nota di Giardina, i nostri uffici saranno come sempre a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli.